Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema pasticcera alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Ingredienti sono latte, farina di tipo 00, zucchero, uovo, Nutella e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, la farina di tipo 00 oppure l'amido di mais, lo zucchero, l'uovo e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità a 4. Aggiungere la Nutella ed azioniamo il bimbi per 30 secondi. A velocità a 4. La crema pasticcera è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare. Crema pasticcera alla Nutella, ideale per farcire torte, bignè o crostate o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!